Prima della presentazione ufficiale in programma con una conferenza stampa prevista per i primi giorni di luglio, in casa Fidelisandria sarà tempo di porre le basi tecniche per la stagione che verrà. L'annata 2022-23 sorgerà sulle ceneri della salvezza ottenuta a metà maggio nello spareggio play-out contro la Paganese ma nel segno della discontinuità, a partire da panchina e poltrona di DS, dove dopo i saluti con il tandem di Leo Di Bari e con Pasquale lo giudice è stato tempo di insediamento ufficiale per Mirko Cudini e Sandro Federico, una coppia che ha in comune due aspetti su tutti, la fame di chi ha fatto tanta gavetta anche nelle categorie dilettantistiche e la ferrea determinazione di chi sa di confrontarsi con una piazza ambiziosa che sa davvero garantire punti quando è pungolata nel modo giusto. Per questo i primi giorni dopo gli annunci del nuovo allenatore, del nuovo direttore sportivo, in casa Fidelis e tempo di valutazioni. La base è in quella dozzina di giocatori sotto contratto da Saracco ad Alcibiade fino ad Urso, Caso, Licciotti, Di Piazza e Tulli. Alcuni di loro costituiranno lo zoccolo duro da cui ripartire, altri saluteranno nella direzione di un ringiovanimento pianificato dalla società e perseguito dal progetto targato Cudini Federico. Qualcuno, su tutti Saracco e Urso, ha già riscosso le attenzioni di altri club del mercato DC ma la priorità della società sarà quella di sedersi a tavolino con loro e valutare insieme la volontà di andare avanti. Parallelamente si sonda il mercato degli under senza preclusioni per giocatori che si sono distinti nel campionato di Serie D. Patrimonializzare per poi magari rivendere e generare plus valenze soprattutto puntando sui giovani come Cudini e Federico hanno fatto a Campobasso e Teramo sarà un'altra parola chiave della nuova Fidelis. Complicato invece al momento ipotizzare l'arrivo ad Andrea di pedine chiave per l'allenatore nell'esperienza molisana come Dalmazzi, Bontà e Candellori. Per ultimo ma non ultimo c'è l'aspetto tattico. Nelle esperienze con Notaresco e Campobasso Cudini ha dimostrato di saper far rendere al meglio le sue squadre con il 4-3-3. Un atteggiamento tattico diverso dal 3-5-2 visto nella stagione 2021-22 sotto la guida di Panarelli e Ginestra e dal 4-2-3-1 impostato dal duo di Leo Di Bari. Il suo Campobasso divertiva e ha saputo ottenere la salvezza senza mai passare dalla zona rossa del campionato. Ripetersi ad Andrea cercando di alzare la sticella delle ambizioni senza perdere di vista la stella polare della permanenza nella categoria sarà l'input di partenza da inseguire. A partire dal ritiro il qui start è in programma a metà luglio. Al fischio d'inizio della stagione è logico e lecito attendersi una Fidelis con una pelle diversa. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.